Buongiorno a tutti, sono qui a presentarvi un prodotto commercializzato di iSteam, gli iSteam Service Kit. Vi anticipo anche che nei prossimi episodi, nei prossimi video, faremo un ulteriore passo avanti perché andremo a vedere l'applicazione diretta sulla macchina di questi kit grazie all'aiuto di uno dei nostri tecnici. Per chi ancora non lo conoscesse, gli iSteam Service Kit sono dei kit che comprendono tutte le guarnizioni e in alcuni casi i principali componenti consumabili che garantiscono il corretto funzionamento della macchina e l'adesione alle norme igienico-sanitarie e che ti permettono di poter effettuare una corretta e sana manutenzione ordinaria, programmata, semestrale o annuale, dipende in base al grado di usura dei componenti e di utilizzo della macchina stessa. Abbiamo creato questi kit con l'obiettivo di andare a aumentare, implementare e promuovere la manutenzione ordinaria cercando di ridurre sempre di più l'intervento e la manutenzione straordinaria con i relativi costi connessi. Per ogni modello macchina abbiamo creato il relativo e corrispettivo iSteam Service Kit. Oggi vi presenterò le Steam Service Kit per la macchina StarGel. Ed ecco qui il nostro gioiellino. Come potete vedere la confezione è plastificata, quindi è una confezione professionale. Questa plastificazione fa sì che il prodotto venga mantenuto integro e si riesca a conservare meglio nel tempo. Inoltre è una confezione intuitiva perché, come potete vedere, in alto a sinistra viene riportato il modello macchina principale su cui questo kit può essere usato. In questo caso leggiamo iSteam Service Kit StarGel. Più in basso però possiamo trovare anche altri modelli macchina su cui si può andare ad applicare lo stesso identico kit. Inoltre è anche facile ed intuitivo nell'impiego, nell'uso diretto sulla macchina perché non solo troviamo il disegno della macchina in cui il pezzo va inserito, ma viene anche rappresentata la posizione che quello stesso pezzo di ricambio ha all'interno dei nostri esplosi. In basso a sinistra troviamo anche il codice IC. È il codice con cui si può effettuare l'ordine per poter acquistare questo kit. Un unico codice per tutto il kit, quindi un unico codice per gestire più componenti e più parti. Come vedete questo è un kit garantito dai Steam. Questo vuol dire che stiamo parlando di pezzi di ricambio originali. Quindi, come anticipato, a breve arriveranno dei prossimi video in cui vedremo l'applicazione diretta di questi kit sulle nostre macchine con l'aiuto dei nostri tecnici. Quindi rimanete sintonizzati! Grazie a tutti!